Il treno diretto delle ore 17 e 12 proveniente da Napoli è diretto a Corrento. Il treno diretto delle ore 17 e 13 per Corrento e in partenza dal binario 2 non ferma a Bostano. Il treno diretto delle ore 17 e 12 proveniente da Corrento e in partenza dal binario 2 non ferma a Bostano e in partenza dal binario 2 non ferma a Bostano. Il treno diretto delle ore 17 e 12 proveniente da Corrento e in partenza dal binario 2 non ferma a Bostano e in partenza dal binario 2 non ferma a Bostano. Il treno diretto delle ore 17 e 14 proveniente da Corrento e in partenza dal binario 2 non ferma a Bostano. Il treno accelerato 4,5 e le ore 17 e 0,1 per Oggio Marino via Pompei e in partezza dal binario 4,5 e le ore 17 e 0,1 per Oggio Marino via Pompei.